si può essere di sul peso da ash e toucher la mette fuori uso momentaneamente quindi se tipo c'è il termite lancia il toucher viene messo fuori uso e quindi puoi piazzare la carica te la fa saltare si si e ti toglie anche la vita se sei in ferimento ti uccide e poi distruggerla anche quando è aperta in pratica quando ti spara apre le porte davanti tipo osservatorio che apre lo sportello esce il telescopio quando lo vedi parte subito il cristo gli spari anche se è chiusa esatto ti fa tirare le stemmioni e scomodissimi da e sveglia prendi cazzo la fai startare sta roba di solito funziona se nessuno di qualcuno adesso becchiamo villa perché abbiamo uno che non è classificato c'è uno che sta giocando la prima partita già gruppo intervento speciale quello quello è tutto da vedere non è coerente lo dici comunque adesso becchiamo villa per forza vogliamo cambiare host o entra entra ed esci basta manacciare è banca ed è disarmo artificieri perché clinch voleva giocare artificieri adesso giochiamo artificieri non siamo le pro in tutti quanti quindi ci sta chi è che prende il diffuser io di cattiveri ha detto con calma anche aggiungere che poi diventi grande cosa adesso seconda superiore che raga non non vi incazzate se non riesco a correre tutto il tempo non riesco a menore a sinistra tutto il resto ho sbagliato raga 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 ma fai raga Allora, di qua... No, ma... Bane a qui, eh? La triple è libera. Vai da Turner, che ti dà? Ciao, una persona online. Vi riuscimi da Turner. C'è un amico Satticono. C'era qualcuno. Guarda... Per venti. Triple, non c'è ancora nessuno. Per venti, che hai il defuser. Vi servo io? Sì, per aprire. Allora... 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 Corroniano, per bene. Allora... Allora... Com'è la situa? No, da sopra, 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 da sopra. Vado, vado sopra, io. Onesta. Aspetta! Ah, è a destra, affancula. Non l'ho vista. È in fondo a sinistra. Dove c'è la porta, Hansen? Le... Occhio che c'è in un altro. Guarda che finocchio. Operator standing. Ai, vado. Ho sciuto la tunnel, eh? Tanto sono shock. Adoro. Op 4 eliminated all friendlies. Eh, devo... Devo scaldarmi. Operator mi ci fa la forma. Non è che se... Per carità. Ma no... Eh no, è in artificiare, non ce la facciamo. Allora, pulse, mira, prendetelo. Se la vedo. Dove andiamo, quindi? Sotto? Sì, sì. Vai a mira, non sono capace usarlo. Eh, no, metterli lì, dovevi metterli. Vabbè. Va bene, vabbè. Frocca. Prendi con Crost. No, non barricchiate qua. Sì, lì sì. No. Sì, iniziare. Sì. Sì. Ma no, dio santo. Mi è scappato il dito, ma Cristo. Si può. Sì. Sì, dico, c'è un gadget che non è giunto. Vuoi l'assa? Sì. Ma qui mi ha troppo il piranha. Però non è come quella di maestro. Sì, sì. Ecco, mi è stato stimato il camera attentivo a guardare tram. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Oh, minchia. Da tu, non c'è nessuno. Ah, è visto la gamba. Non c'è nessuno. Guarda che figlio di puttana voleva vincolarmelo. Non c'è nessuno. Tanto il defuser è qua. Ce l'ho io. No. 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 Grande, Prandi. Mi sei presciuto un botto. Sennò per te quello ci faceva tutti. prende il copilazzo va benissimo taccia il virus si mamma si torna vinto tanto si torna vinto mi sento a casa a giocare a artifici aeree di seto quando gioco a presidio sono spacehard non sono in archivi non sono in open sono su si sono su spondaggio in l'aria spondaggio in l'aria no, tante spondaggio in l'aria 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 C'è la cadera? È là Ok Oh mio dio Cadera? Oh no Ok, ce n'è uno in fondo, l'ho visto Oddio Tanto Vai via C'è un frosso C'è un frosso C'è un frosso Il C'è un frosso 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 Oddio Ah ok Ok li vedo, c'è la cam. Eccolo. Come hanno plantato, diciamo? Da dietro! E ha plantato... A sinistra! Ok, uno lì, te l'ho spostato. Cosa? E dove? O era camperato nell'angolo? Guardatela! Porco due! Ha preso la mia in testa. ProPlayer! Per commentare poi dopo... Schifo! Precista artificiale, non mi piace di più di Precidio. L'ho preso io. Eh, forse è meglio che il Twitch non lo prenda. Eh, lo so, però... No, non ce l'ho. Ho preso il Diffuser perché sennò... Probabilmente lo davamo in Tender. Noi non vogliamo che... Noi non vogliamo che questo succeda. Noghe! Noi non vogliamo che questo succedere! Noi non vogliamo che questo succedere! Noi non vogliamo che questo succedere! Bandit esce da tripla ragazzi 5 secondi per l'insertione Il defuser è stato sicurato hai trovato una bomba, fai la sua locazione e defuso Dimmi che era Bandit, non era Legion Beerus aspetta che l'ho lasciato il defuser Aspetta che sono inculati io, confronto Non venire qua, non venire qua Che esce Bandit Ok, lascio lì Il defuser è stato recuperato Un po' divertiti ragazzo L'obiettivo c'è qualcuno raga? In... in A no In A no In A no Però c'è... Attento al prosto per terra eh Alla finestra E in D tornano Eh, bisogna tornare con un po' Mi greppa L'hai fatta? Madonna, arrivo a plantare raga Hai fatto il prosto per terra Hai fatto il prosto per terra? Sì sì, l'ho fatta C'è qualcuno dentro? No no, entra No no, entra Aga Gu Eh, mi hanno individuato Planta, planta Un po' di stop Bravo Arrivata di qua Guarda, porta grande Eeeh, già No, eh, vabbè Non ho fatto intenzionirare Vabbè È nell'angolo Sta splantando, mi sa Non c'è Eh, non credo Però deve ancora Ancora plantare Un po' di 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 Sii Seguì Questo pensa che Si va bene o che no Allora, andiamo in archivio O andiamo in open space? Archivio, new Eh, ma ci aprono Ma no Ma no nooo io non piace altro perchè perchè no beh dalle finestre si devo cambiare la luce ai led ok così non è anzi no bianca bianca non è non è non è Oh ilasco all four sides scanning ok c'è uno qua è passato però non lo riesco a fare non riesco a farlo perché se lo faccio mi identifica è qua glaz la zondato a mano da sopra zofia è ancora bravo no brandy non più c'è la tua sinistra dietro di te hanto vai dentro vai dentro lascia stare ok no non riesco a vedere eh occhio hanto prost prost togliti fatti un buco che me ne do eh quello di oggi vai fai il giro fai il giro dai non ci credo ma guarda io che non aveva nulla nulla non so come non è morta io 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 ho sbagliato ma c'avevi il c4 no allora calmo oh c'è una monster adesso l'ammazzo questo andranno sotto ti prendo andranno sotto sì per mai che tacce no sì sì serve sì sì serve a voglia sì peccato perché no no ci no no ci c'è qualcuno che ha fatto botta lassù ma non so chi ha allora anche di alleria di alleria oh qua non hanno barricato dove vai dove vai e dove cazzo la c4 non ho due vicini con me che ti splantiamo su A eeeh visto come ci hanno stuprato prima non mi fiderei tanto faccio me ti splanti eh ma in questo giro mi hanno barricato e non difendo no il frosted ma dio è stato il frosted il frosted vai tronan vai tronan oh 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 Sì, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non riesco a farla tu, anche col pompa. Arriviamo, dobbiamo un attimo che scenda, fra come? Sì, non è vero, non è vero. Si è mosso. Si è mosso qua. Eh, si è mosso, se non si muoveva non lo sentivo. Cioè, se stava fermo... Match point. Andiamo a foto. Faccio il libero, perché me la sento buona. Chi? Car... Car... Con cosa? A fare... Barricare? Cazzo vuol dire tutte le bolle? Spaccarle? Spaccarle o...? Ma che hai visto? Ok... Ah ok... Eh no... Sai come... Le tacc... Le tacc... Le tacc... Cazzo... Le bolle son tanto milioni di euro... La botola di negroni? Ok, io ne ho fatte due. Ho fatte due. No... Vichoro... Davico... Ehm... Tu aspetta la mica. non è reale Lo vedete di qua? Come? Ma sono giù tutti dentro? Dietro da Ascensore Vai Ma non ci credo Mi ha fatto... No Mi ha fatto pure un venice Con la smoke Ma non erano dentro Erano tutte due in garage No, sì Sì, ragione Dai, l'abbiamo giocata bene questa, peccato 4 a 4 Vuol dire... Cazzo fai... Il suo premio è capitato, meravigliato Sono ancora alto nel cielo Drona ha trovato una bomba Valkyria Valkyria Vigil 5 secondi 5 secondi inizio Ma è sto partendo Bastarda Occhio che escono Madonna Probabilmente qua? No, non è lì Non escono l'ultimo round Non, non è lì Non è lì Ancuno sbagliato Dio santo, ma non riusciamo mai a fare l'S-CAM? Ah, guarda, è dentro Valkyria, onestissima. Ma solo uno? Uguerissima, io ero che uscio. Ragazzi, il... Arriva, arriva, è aperta qua. Ah, beh. Bene, bene. Questo è stato bellissimo, questo round, comunque. Madonna! Ma che male! Madonna, 12-15. Grandissimo. Grazie. Voi bene.